Confronto pubblico su obiettivi e condizioni per sviluppare programmi e progetti tra le città pugliesi e la città di Matera, capitale europea della cultura 2019. L'appuntamento è per mercoledì 23 settembre alle 21 al castello Carlo V di Lecce. L'obiettivo è cercare sinergie con la città dei Sassi per individuare opportunità di sviluppo per l'intero territorio pugliese. All'incontro parteciperà il presidente della regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Lecce Paolo Perrone, il sindaco di Bari Antonio De Caro, il sindaco di Matera Raffaello De Ruggeri e l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Taranto Vincenza Vozza. L'evento Cultura Turismo Sviluppo verso Matera 2019 promosso dalla fondazione Fitzcarraldo insieme al sindaco Perrone sarà il primo dibattito pubblico focalizzato sul tema al quale è invitata a partecipare l'intera cittadinanza. Al centro dell'iniziativa la consapevolezza che Matera 2019 può rappresentare un'opportunità unica per mettere a sistema i molteplici sforzi e investimenti in cultura approntati dai territori pugliesi negli ultimi anni, come le progettualità nate dalle candidature di Lecce e Taranto a capitali europee al fine di trasformare il 2019 in reale chance di sviluppo per tutta l'area. La finalità dunque è qualificare e rafforzare un'offerta turistica e culturale integrata in grado di competere in modo duraturo sui mercati nazionali e internazionali garantendo allo stesso tempo sviluppo economico e migliorando la qualità della vita dei residenti. L'incontro si realizza nella cornice di Art Lab 15, l'appuntamento annuale della comunità professionale culturale che si svolge dal 23 al 26 settembre a Lecce per il quinto anno consecutivo. Art Lab 15 è una manifestazione di Fondazione Fitzcarraldo, centro indipendente che da oltre 25 anni svolge attività di progettazione, ricerca, formazione e documentazione sul management, l'economia e le politiche della cultura, delle arti e dei media. A moderare il dibattito sarà Duilio Gianmaria, giornalista e conduttore televisivo della trasmissione Rai Petrolio.